500 studenti di diversi licei di Roma hanno riempito la platea del teatro Ghione per la prima delle cinque tappe di campioni di vita, iniziativa promossa da RG con il sostegno di Intesa San Paolo e rivolta ai giovani che vengono coinvolti in incontri con i campioni azzurri delle discipline paralimpiche. Michele Attivissimo, direttore commerciale retail per il Lazio e l'Abruzzo di Intesa San Paolo. Negli anni 50 avere una disabilità o una menomazione poteva anche comportare il rischio di perdere il posto di lavoro. Nel 1960 in occasione delle Olimpiadi di Roma si fece avanti un'idea all'epoca rivoluzionaria, quella di organizzare un torneo internazionale di atleti con disabilità. Quello segnò lo spartiacque, da allora è incominciato un percorso perché si mostrò al mondo le capacità delle persone con disabilità e questo percorso è iniziato attraverso lo sport, grazie allo sport, grazie ai valori dello sport, passione, competitività, sana competitività, rispetto delle regole, spirito di sacrificio, superare i limiti e quindi inclusione. Ora questi valori sono valori nei quali ci riconosciamo e questo è il motivo per cui riconoscendoci in questi valori li applichiamo al nostro interno e soprattutto poi li proponiamo verso l'esterno. Sul palco insieme ad Andrea Lucchetta, mattatore dell'evento, hanno partecipato i campioni paralimpici One Itapia, medaglia di bronzo ai giochi di Tokyo nel lancio del peso e del disco per non vedenti e la velocista Oksana Corso, argento mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra. Ospite speciale Adriano Panatta, uno dei fautori dell'iniziativa. Quando io ho proposto a Intesa San Paolo questo format, questo evento, ci hanno subito creduto perché i messaggi che vanno dati specialmente ai ragazzi come oggi della scuola superiore e il momento in cui devono anche scegliere la loro strada, probabilmente hanno già le prime crisi esistenziali e vedendo i filmati e sentendo parlare questi grandi campioni si rendono conto che tutto quanto è possibile.